bene grazie sono davvero contento di essere qui non soltanto perché torino spiritualità è un luogo di grande riflessione a cui tanti di noi guardiamo e vi ringrazio anche dell'onore di avermi permesso di poter partecipare anche come come relatore a questo tipo di iniziativa ma vi confesso come mi capita spesso in diversi momenti della mia vita mi ritrovo a fare delle cose soprattutto a partire dall'amicizia e quindi l'amicizia con armando è il vero motivo per cui io sono qui oggi e sono contento di poter condividere con voi una qualche riflessione attorno a questa suggestiva immagine della pelle la pelle dell'anima oggi pomeriggio faremo insieme un piccolo viaggio ma vi dico da subito che tutto quello che ho pensato di condividere con voi oggi pomeriggio parte da una mia suggestione da una mia riflessione si può anche non essere d'accordo con questo quindi rimetterò insieme alcune pagine della bibbia e cercherò insieme con voi oggi pomeriggio di poter approfondire questo tema per cercare di gettare luce anche su una dimensione della nostra vita che molto spesso rimane oscura nascosta tutti abbiamo un tremendo bisogno di vita spirituale ma la vita spirituale in realtà nel nostro mondo contemporaneo è un tabù abbiamo bisogno di vita spirituale ma quasi mai abbiamo gli strumenti giusti per poter fare una riflessione sulla vita spirituale a volte la confondiamo con la vita affettiva con la vita psicologica con la semplice vita interiore ma la vita spirituale è qualcosa che sgorga nella parte più profonda di noi al di sotto di tutte queste dimensioni ed è qualcosa di cui il nostro cuore sente una grande esigenza al di là anche del dono della fede si può non avere il dono della fede ma si ha comunque questa profonda sete di spiritualità ed è questo che crea una fraternità umana una fratellanza un po tra di noi a volte i nostri percorsi personali le nostre convinzioni personali il dono che ciascuno di noi può vivere dentro la nostra vita può essere qualcosa che ci divide che ci distingue in qualche modo c'è qualcosa invece che ci lega in maniera profonda ed è questa sete questa sete di spiritualità che più reprimiamo più ci angoscia più ci rovina più ci fa cadere in una vita depressa in una vita triste e tutto quello che vediamo non funzionare intorno a noi a volte è semplicemente il sintomo di qualcosa che non abbiamo affrontato nella nostra parte più profonda più vera di noi stessi sembra quasi difficile pensare che le guerre intorno a noi le ingiustizie intorno a noi il male che a volte grida le cronache delle nostri telegiornali delle nostre quotidianità a volte tutto questo ha una radice in una parte di noi molto profonda ci sembra quasi troppo semplicistico dire che se alcune cose le risolviamo dentro di noi l'abbiamo risolte anche nel mondo ma vi posso assicurare che c'è un legame profondissimo tra questa parte profonda di noi e la vita intorno a noi ecco fatta questa premessa mi sono lasciato provocare da questo tema e sono contento anche di una sorta di consonanza con chi ha pensato questo festival con con questa immagine suggestiva della pelle e la prima cosa che mi è venuta in mente è quello che accade all'inizio della bibbia nel racconto della genesi quando noi ci concentriamo su quel racconto forse anche senza andare a rileggere il testo perché tutti noi magari lo conosciamo per osmosi perché culturalmente l'abbiamo ricevuto perché qualcuno ci ha raccontato questa storia perché tutti abbiamo nella nostra testa questa famosa mela che voi sapete non è mai nominata non è una mela non c'è scritto nessuna mela nella genesi è un frutto e questo frutto di questo albero proibito che crea questo iniziale cortocircuito nella storia perché perché la condizione dell'eden è una condizione appunto paradisiaca allora vorrei partire esattamente da questo per dirvi che la bibbia parte con un racconto simile per dirci una verità di fondo cioè che ognuno di noi vive dentro di sé una sorta di conflittualità tra la sua parte dentro e la sua parte fuori trovarsi in paradiso trovarsi nel paradiso dell'eden significa trovarsi nella condizione in cui questa conflittualità non esiste ancora il nostro dentro e il nostro fuori vanno d'accordo l'uomo è trasparente a se stesso si vede non abbiamo bisogno di nient'altro è un essere immediato allora trovarsi in questa condizione significa sentirsi attraversati da questa presenza di dio da questa presenza di luce di comunione non esiste l'inferno che in fondo è questa solitudine radicale l'uomo nel paradiso è come se sperimentasse nel paradiso dell'eden è come se sperimentasse questa sua vocazione primaria ad assomigliare davvero a dio ad essere a immagine e somiglianza di dio proprio perché è assente questo conflitto ma quando c'è questa caduta il peccato originale da cui scaturisce un po tutta la storia che poi noi conosciamo della bibbia prima che adamo ed ema adamo ed eva fossero cacciati dal paradiso dell'eden ricevono una dote un dono qualcosa che li deve accompagnare nella loro vita il testo della genesi ci dice che ricevono una tunica di pelle interessante perché questa cosa noi possiamo leggerla in due modi una tunica di pelle inteso come un vestito o qualcosa che riveste un po quella che è la loro natura spirituale questo essere degli esseri completamente immediati senza bisogno di concepirsi come persone in contrapposizione tra il dentro e il fuori questa tunica di pelle non rappresenta semplicemente un'eredità da questa cacciata ma rappresenta la nuova condizione dell'uomo che da quel momento in poi non è più un essere immediato ma è un essere mediato cioè per poter andare dentro di sé ha bisogno di mediazione e tutto quell'apparato simbolico che noi abbiamo dentro la nostra vita facciamo un esempio molto concreto se io vivo l'amore nei confronti di una persona questa cosa si vede soltanto se io la medio attraverso dei gesti abbracciare qualcuno baciare qualcuno questi gesti raccontano qualcosa che nessuno riesce a vedere perché quello che mi porto dentro come amore è nascosto dentro di me ho bisogno di una mediazione affinché questo mondo vero dentro di me raggiunga l'altro finché io non uso questa mediazione tutto quello che c'è dentro di me non si vede allora voi capite che c'è una componente importante che noi dobbiamo recuperare che appunto la componente simbolica perché senza questo alfabeto senza questa mediazione la nostra interiorità rimane imprigionata non riesce ad esprimersi rimane appunto inespressa dentro di noi e quando la nostra interiorità non riesce ad esprimersi non riesce a venire fuori in realtà genera male ci incattivisce genera quella frustrazione che molto spesso rovina la nostra esistenza è molto importante accettare il fatto che quello che ci viviamo dentro ha bisogno di essere espresso ha bisogno di una mediazione ecco la pelle rappresenta assolutamente questo alfabeto di mediazione di cui ognuno di noi è dotato allora vedete come se da una parte noi dobbiamo accettare che la nostra condizione di essere umani non è più una condizione di trasparenza di immediatezza dobbiamo accettare di essere degli esseri mediati che hanno bisogno di una mediazione che cos'è questa mediazione se non la nostra capacità simbolica saper raccontare con dei gesti esterni quello che ci portiamo dentro poter mostrare quello che ci portiamo dentro attraverso la mediazione di qualcosa cosa rappresenta la pelle se non questo nostro lato simbolico ma qual è la caratteristica più importante cioè l'alfabeto più importante di questo apparato simbolico sono le nostre relazioni quando noi vogliamo scoprire la nostra interiorità dobbiamo vedere le nostre relazioni in questo senso noi siamo degli esseri relazionali perché soltanto attraverso le relazioni noi possiamo trovare un ponte tra il dentro e il fuori che c'è di tra di dentro ciascuno di noi la nostra pelle è appunto la relazionalità e questa che fondamentalmente a me sembra essere la cosa più interessante di questo percorso biblico di questa immagine che ci dà la sacra scrittura all'inizio come se volesse dire a ciascuno di noi fai pace con il tuo conflitto accetta di dover avere una mediazione questa mediazione è riuscire ad esprimere quello che ti porti dentro e quello che ti porti dentro lo esprimi solo e soltanto se recuperi le relazioni se riesci a recuperare il tuo apparato relazionale hai creato finalmente un ponte in questo conflitto un ponte tra il dentro e il fuori ora se noi usiamo questa immagine se noi ci lasciamo suggestionare un po da questa da questa immagine di mediazione che avviene attraverso la pelle attraverso le nostre relazioni ci accorgeremo che la bibbia quando deve dirci che abbiamo un problema dentro ci racconta sempre un fallimento relazionale e ci racconta un fallimento relazionale che molto spesso per essere evidente si manifesta sulla pelle delle persone si manifesta sul corpo della persona sulla sua parte superficiale vi faccio un esempio ma tra poco ci entreremo in maniera sicuramente molto più forte più decisa più approfondita pensate a questa malattia diffusa nella bibbia di cui si parla moltissimo nell'antico nel nuovo testamento certamente era una malattia molto diffusa nel tempo antico e che mortificava la società la cultura dell'epoca e proprio per questo condizionava anche un po l'immaginario collettivo che era la malattia della lebra e che cos'è la lebra se non una malattia della pelle della carne del corpo della superficie ma se pensate a che cosa sia la lebra dovete pensare alle conseguenze della lebra chi si ammalava di lebra veniva escluso considerato immondo allontanato si rompeva il suo apparato relazionale non poteva avere più rapporti con nessuno la sua condizione diventava la condizione dell'isolamento la condizione della solitudine e quindi quando una persona si sentiva sola abbandonata chiusa messa da parte che cosa poteva esprimere di più questa solitudine radicale interiore se non la lebra esteriore ed è interessante come nel testo biblico a volte la lebra è una disgrazia una mancanza appunto di una grazia di un bene che si manifesta nella vita di una persona voglio farvi un esempio concreto per farvi capire come dobbiamo intendere il termine disgrazia cioè mancanza di una grazia quando io subisco un male pensate a una persona che subisce violenza pensate a un abuso ecco in quel momento non è semplicemente quell'atto puntuale che fa male in quel momento ma l'abuso ha una conseguenza su una persona la ferisce in una maniera così radicale che molto spesso la condanna a vivere ad esempio un'incomprensione un sentirsi sbagliato non più a suo agio col proprio corpo con se stesso con gli altri a non riuscire più affidarsi in una relazione in un in un contatto di bene con le persone intorno è come se quella persona subisse una mancanza di bene una mancanza di di grazia una disgrazia appunto una sorta di lebra di isolamento di cui io non sono il responsabile ma sono la vittima allora nella vita può succedere che noi ci sentiamo in quella condizione perché abbiamo subito un male perché c'è successo qualcosa dentro la nostra storia che ci ha condannati a quella solitudine a far ammalare questa nostra relazionalità a metterci in un isolamento a non riuscire più a creare ponti tra il dentro e il fuori e quindi ci sentiamo radicalmente soli altre volte nella bibbia ci accorgiamo che la malattia della lebra è la conseguenza invece di alcune azioni tu agisci in un certo modo agisci male manifesti un'ingiustizia una una perversione nel vivere la tua vita e la conseguenza di questo male è che per molto tempo riesce a cadere in piedi ma un certo punto quel male ha una ricaduta su di te ti isola ti rovina ti fa marcire ti condanna appunto a quella solitudine a quell'isolamento allora la somatizzazione il nostro corpo la nostra corporietà manifesta entrambe queste istanze nella bibbia il male ricevuto e il male di cui possiamo essere protagonisti ora abbiamo dato una visione negativa del corpo della pelle abbiamo detto che quando si ammala questa parte di noi sta a significare questa questo radicale isolamento che possiamo portarci nel cuore dentro la nostra vita ma c'è anche un'altra parte una parte luminosa quando noi vogliamo manifestare invece la pienezza del cuore la pienezza di una comunione la pienezza di una gioia pensate in italiano usiamo questo termine no sprizzi gioia da tutti i pori che cosa significa che una persona vive talmente tanto un'esperienza di bene che è luminosa persino il suo corpo è luminoso i suoi occhi sono luminosi la sua pelle piena di luce non a caso nella bibbia ci sono episodi in cui la pelle diventa la protagonista della luce il corpo diventa la mediazione di questa gioia di questa pienezza di gioia ecco queste sono le due immagini che ci raccontano fondamentalmente che avere una pelle avere questo apparato simbolico avere questa mediazione significa accettare di avere un conflitto e che noi dobbiamo collocarci nella nostra vita in questo conflitto in modi diversi con atteggiamenti diversi ho scelto due immagini che adesso approfondiamo con due brani biblici con due immagini bibliche che possono aiutarci a capire che non sempre la luce fa bene e non sempre il buio fa male c'è un momento nella bibbia in cui viene raccontata la storia di mosè del liberatore di israele per farla breve senza entrare dentro la biografia di questo personaggio c'è un momento dopo che riesce in maniera rocambolesca e anche con grande meraviglia stupore con prodigi immaginate che l'uscita dall'egitto del popolo di israele diventa l'evento talmente più importante nella vita di questo popolo e nella storia della salvezza che ogni volta che si vuole ritrovare il rapporto con dio bisogna sempre ricordarsi dell'uscita dall'egitto del passare illesi attraverso il mar rosso dell'attraversamento nel deserto la cosa che colpisce però di questa storia è che in fondo la liberazione del popolo di israele è stata abbastanza semplice dopo le piaghe d'egitto dopo diciamo questa contrattazione con il faraone che inizialmente fallisce a un certo punto passate tutte le conseguenze delle piaghe d'egitto finalmente il faraone dai permesso al popolo di israele di uscire ed esce da quella terra di schiavitù in una sola notte in quella notte avviene la liberazione ma è solo una liberazione esteriore il problema vero di israele non è la geografia cioè dove sta andando non è tanto la terra promessa il luogo che dovrà raggiungere il problema della schiavitù di israele non è tanto il faraone non è un popolo che lo opprime se pensate è sempre il nostro grande problema nella vita no uno dice io sono infelice quando ti chiedono perché sei infelice tu riesci sempre a dare la colpa a qualcuno o a qualcosa cioè abbiamo bisogno di catalizzare su qualcosa di preciso il perché siamo infelici il problema è che quando tu risolvi con l'infelicità o perché quel nemico e quella situazione si risolvono non ci sono più sono morti vengono cancellati e ti accorgi che in realtà il problema non è risolto allora sposti ancora l'attenzione su un altro nemico su un'altra situazione cioè pensi sempre che stai male perché c'è un faraone che ti rende infelice quello che noi riusciamo a cogliere invece da questa storia che la grande schiavitù di israele non è geografica non è esteriore ma è dentro di loro dio li libera dal faraone dall'egitto ma deve strappare via dalla loro testa la schiavitù sono schiavi dentro sono schiavi nel loro modo di ragionare di percepire la vita di approcciarsi all'esistenza deve cioè dio perdere tempo con loro per insegnargli la libertà uno ti può dare una liberazione esteriore ma noi abbiamo bisogno poi di essere liberati interiormente cioè di avere una libertà interiore apri chiudo una parentesi velocemente una persona libera interiormente può fare qualunque cosa e gli può accadere qualunque cosa se sei libero interiormente tu sei felice ma non di una felicità come la promette il mondo non è tanto la felicità del e vissero felici e contenti e la felicità di chi attraversa anche cose drammatiche che vanno a finire male ma tu sei talmente libero interiormente da non coincidere mai con quella cronaca nera da non lasciare mai che quella cosa determini fino in fondo il tuo destino quindi se c'è una cosa di cui noi abbiamo bisogno è la libertà interiore se c'è una cosa di cui israele ha bisogno è la libertà interiore ecco perché a un certo punto di questa storia viene donato il decalogo cioè i dieci comandamenti che ovviamente siccome siamo rimasti tutti un po adolescenti dentro abbiamo una sorta di allergia alle regole abbiamo allergia quando qualcuno mette dei limiti dei paletti intorno a noi ma i dieci comandamenti non sono messi lì per limitare la libertà ma in realtà per renderla possibile finché una persona non ha un argine non è libero se un fiume non ha un argine fa danni non va da nessuna parte è l'argine che lo conduce lontano da qualche parte noi diventiamo adulti quando ci accorgiamo che avere un argine è una fortuna che avere dei limiti è una fortuna che avere dei comandamenti significa avere qualcosa che ci mette nella condizione di essere nella libertà e di vivere la nostra libertà per farla breve israele come fa a darsi questi comandamenti può ragionare un po con il buon senso a un certo punto interviene dio direttamente da loro delle indicazioni da loro un argine che può rendere a loro il grande favore di di dargli la libertà di vivere la libertà interiore pensate a quello che succede a un certo punto nel dono del sabato perché a un certo punto viene dato il comandamento di riposare il sabato perché il sabato non si può lavorare non si può fare attività alcuna perché il nostro rischio è quello di pensare che noi siamo ciò che facciamo cioè concidiamo col nostro fare quando ad esempio una persona coincide troppo con il proprio lavoro non non è un bene questo se tu coincidi troppo con la tua azione questo non è un bene perché dimentichi chi sei bisogna fare sempre una grande distinzione tra il verbo fare e il verbo essere allora che cosa fa dio a un certo punto dice al popolo di israele una volta settimana dovete fermarvi a respirare dovete ricordarvi chi siete ecco se questo noi l'applicassimo nella nostra vita se ogni tanto pensate nella vita di coppia o nella vita dei genitori no che molto spesso sono tutti proiettati sui figli a un certo punto fermatevi respirate ricordatevi che siete una coppia perché se tu ti dimentichi di essere una coppia e rimani semplicemente genitore non è detto che questa cosa ti fa sempre bene fare il genitore è una roba faticosa a volte che ha bisogno però di una grande identità di un grande essere che tu ricevi ad esempio nella relazione di coppia prendersi uno spazio uno spazio sabbatico un sabato un respiro un tempo significa ricordarti chi sei ricordati di chi sei e poi tornare a fare le cose con un atteggiamento completamente diverso nuovo ora se io ve lo spiego così credo che tutti siete d'accordo che il sabato è una cosa buona ma se andate a leggere i vangeli vi accorgerete che la grande polemica che accompagna gesù per tutta la sua predicazione è proprio sul sabato è insopportabile per loro che gesù faccia miracoli di sabato predichi di sabato contesti costantemente il sabato perché che cosa è successo nel frattempo hanno trasformato il sabato in un in una prigione in uno schema non è più il sabato che libera ma un sabato che è diventata un'altra cosa da fare nella vita fare il sabato vivere il sabato in questo modo gesù ha un'espressione geniale per rivelarci questa cosa dice è il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato cioè mettiamoci d'accordo il sabato serve alle persone o le persone devono servire il sabato che tradotto significa le regole devono essere a servizio della vita concreta delle persone o le persone devono adeguarsi alla regola appunto e basta senza tener da conto di quello che stanno vivendo in quel momento senza la loro sofferenza precisa puntuale di quel momento quando gesù prende quell'uomo con la mano paralizzata di sabato ed è ai margini della sinagoga lo prende lo mette al centro e dice ma secondo voi è una cosa buona o no aiutare una persona che soffre in giorno di sabato tutti sono in silenzio nessuno ha il coraggio di rispondere anzi tutti sono pronti a condannare gesù e gesù rimane indignato da questo loro silenzio ovviamente guarirà quell'uomo dice però di sabato se vi cade un asino nel pozzo lo tirate fuori e questa persona la sofferenza di questa persona vale di meno del vostro asino capite la contraddizione l'ipocrisia che si viene a creare quindi gesù dice io non sono venuto ad abolire il sabato a dire che non c'è bisogno delle regole ma a ridare il giusto sguardo la giusta interpretazione ora tutto quello che vi ho appena detto parlando delle regole del sabato del decalogo è un dono che dio fa attraverso mosè sul monte santo dona a mosè le tavole della legge questa esperienza che non dura un giorno ma molti giorni pensate che il tempo che mosè passa sulla montagna è talmente lungo non una settimana non due settimane ecco passano 40 giorni e mosè si trova ancora là sopra li convince che ormai è morto questo è il motivo per cui si costruiscono il vitello d'oro l'idolo sostituiscono subito dio con una con una statua costruita con i loro monili ecco in quel momento dio dona mosè la legge e al di là dei dieci comandamenti c'è una somatizzazione della legge una sorta di sintomo che mosè si porta addosso perché ha incontrato dio e ha ricevuto le tavole della legge e qual è questo sintomo che scendendo dalla montagna dice il suo volto era luminoso era così luminoso che accecava le persone allora mosè da quel momento in poi è costretto a velarsi il viso per poter stare davanti alle persone deve camminare con il volto coperto interessante no noi siamo abituati che una persona si isola per la lebra per il buio la bibbia ci racconta invece che si può essere da soli per un eccesso di luce allora che cosa mi sembra di cogliere da questa provocazione che viene dalla bibbia se io parlo del male della sofferenza del peccato tutti capiamo che cos'è la lebra ma quasi mai capiamo che ci può essere un cortocircuito con la luce le persone che sono eccessivamente rivolte dentro di sé in quella che noi abbiamo chiamato la dimensione spirituale la vita spirituale possono avere un contatto talmente profondo con la luce da essere isolati dagli altri cioè possono vivere talmente tanto un contatto con il signore che questa cosa invece di favorire le relazioni le rende impossibili a me capita a volte nel mio ministero nella mia vita di incontrare persone che si sono convertite da adulti e diventano in quel momento persone eccessive vanno sempre molto riportati con i piedi per terra ma la cosa che sperimentano e che non si sentono più capiti da nessuno cercano di spiegare agli altri quello che gli sta succedendo ma non trovano le parole e vengono sempre tacciati di essere esaltati un po lo sono è il primo sintomo della conversione no questa esaltazione eccessiva e questo essere eccessivo in tutto questi entusiasmi straordinari che ti prendono no ed è una condizione che racconta anche san paolo quando san paolo parla delle sue estasi ne parla in terza persona dice fui rapito in cielo e vedi cose che non si possono pronunciare ineffabili allora c'è un'esperienza della vita spirituale che può diventare drammatica perché invece di favorire quella mediazione la rende impossibile e noi abbiamo bisogno invece di una giusta misura di ritrovare una dimensione interiore in cui la luce non diventi accecante che la luce non non occluda le relazioni una persona che vive un'esperienza di vita interiore di vita spirituale e questa cosa non ha una ricaduta esistenziale ma anzi lo rende disadattato c'è qualcosa che non funziona in quella dimensione spirituale è un eccesso di luce e quindi la nostra esteriorità è piena di luce ma è una luce che ci fa male una luce che acceca e poi c'è il buio l'abbiamo raccontato prima è il buio della lebra è il buio invece del male delle cose drammatiche che accadono dentro la nostra vita di un male che ci cade addosso di un male che poi diventa egoismo sopraffazione un male che diventa furbizia le persone che fanno un male inizialmente pensano di essere più intelligenti degli altri finché quel male poi non si riversa contro di loro e gli fa appunto del male a me piace sempre raccontare tra tutti i lebrosi di cui è piena la bibbia di cui sono raccontate delle storie una storia che è nascosta e che ultimamente mi capita di tirare fuori molto spesso e lo troviamo nelle storie del profeta eliseo c'è un momento lì in cui eliseo che è un discepolo di elia incrocia la vita di un generale di un popolo che in realtà è il popolo che comanda all'epoca un po il popolo degli aramei a cui gli israeliti sono sottomessi sono loro che militarmente politicamente hanno avuto il sopravvento anche su un'istra su israele e in questa condizione politica in questa condizione e condizione di vittoria c'è un generale che ha reso possibile anche la vittoria su israele che si chiama naman il siro naman il siro è un condottier un generale un pluristellato un uomo che è stimato da tutti che un personaggio pubblico il re stima quest'uomo la gente lo guarda come un idolo lo guarda come qualcuno che nella vita è riuscito ma quest'uomo deve convivere con una fragilità e una debolezza che lo umiliano moltissimo lui che questo personaggio pubblico famoso è anche lebroso ed è tristissima questa contraddizione no vorrei vorrei tradurvela in maniera esistenziale altrimenti uno pensa che semplicemente è una sfiga essere lebrosi le persone che sono particolarmente intelligenti molto spesso devono convivere con alcuni segreti nascosti nell'armadio le persone che nella vita magari hanno grande successo e hanno grandi situazioni in cui magari ricevono conferme dagli altri a volte sono feriti da cose inconfessabili che si portano nella loro vita e che li mortificano e questo non c'è bisogno di essere dei personaggi famosi tutti noi abbiamo una parte nascosta una debolezza una fragilità qualcosa su cui noi abbiamo difficoltà a far pace una montagna ha sempre una parte nascosta sotto di sé un albero ha sempre delle radici nascoste sotto di sé la storia di quest'uomo è la storia in cui noi non dobbiamo mai fidarci soltanto di quelli che di quello che gli altri vedono di noi c'è una parte di noi che molto spesso si contrappone a quello che si vede esternamente a ciascuno di noi ad esempio pensate che quando samuele viene mandato a cercare il re davide e va nel villaggio di betlemme a casa di yes per poter cercare il nuovo unto il nuovo re di israele appena samuele varca la soglia di casa e pensa di aver incontrato ormai il nuovo re di israele che il primo genito di yes subito dio interviene parla samuele dice stai sbagliando voi guardate l'apparenza io non guardo l'apparenza io guardo il cuore davide non è un uomo dell'apparenza è un uomo che viene scelto per il suo cuore cioè per una parte che non si vede di noi per una parte che apparentemente è nascosta dentro ciascuno di noi naman il siro è l'icona vivente della contraddizione tra l'esterno e l'interno tra una parte vincente e una parte che ci mortifica tra la nostra forza i nostri talenti e la nostra debolezza a volte si può creare questo cortocircuito allora che cosa desidera un uomo così guarire ma da solo non guarisce i medici del suo popolo non riescono a guarirlo tutta tutte le sue possibilità si esauriscono finché una serva che è stata deportata a causa di quella guerra che è ebrea gli dà la dritta giusta come perpetua nei promessi sposi riesce a dire la soluzione al caso all'inizio del romanzo ma nessuno l'ascolta donna bondio non ascolta perpetua in questo caso va meglio perché questa donna invece viene presa sul serio e per un giro diciamo così di raccomandazioni naman il siro si ritrova a casa di eliseo per ricevere questa guarigione riceverà questa guarigione sarebbe stato bello raccontare per bene come avviene questa guarigione ma a me interessa che cosa succede a un punto dopo che guarito va a pagare perché il mondo ci insegna questo che tutto quello che ti viene dato deve essere pagato in qualche modo eliseo dice assolutamente no io non voglio nulla del tuo oro del tuo argento delle tue stoffe di tutto quello che ti sei portato appresso questa roba non si paga perché gratuita l'amore è gratuito l'amore che guarisce la vita di una persona non si paga è impagabile non si può stabilire un prezzo a ciò che ci salva la vita da questa contraddizione che tradotto lo sapete cosa significa che molto spesso quando le persone vivono questa lotta dentro di sé guariscono quando incontrano qualcuno che gli vuole bene senza nessun motivo senza aspettarsi nulla gli vogliono bene e basta in maniera gratuita senza nessun altro fine quando noi incontriamo nella vita la gratuità abbiamo incontrato l'amore di dio quindi non si può dare un prezzo a una cosa del genere non si può dare un prezzo alla gratuità vedete quanto è bella come immagine bene purtroppo mentre naman il siro va alla cassa a pagare e eliseo dice no questa roba non si paga è presente uno dei discepoli di di eliseo che giezi e che rimane così male che questo ha così tanti soldi e il suo maestro non prende manco una piccola offerta voi sapete c'è sempre la strategia ma non per noi è per i poveri i poveri a volte diventano la grande giustificazione attraverso cui noi possiamo perdere anche la gratuità che è il ragionamento che fa giuda quando davanti all'unzione di quella donna che spreca 300 denari sui piedi di gesù dice ma questa roba qui potevamo venderla e darla ai poveri e giuda a fare questo ragionamento e giovanni il discepolo amato è in maniera maliziosa aggiunge nel suo vangelo diceva così perché era ladro perché era ladro ecco a volte noi dimentichiamo questa cosa che lasciarsi educare da dio significa accettare questo tipo di gratuità non mettere mai un prezzo alla gratuità entrare nella logica dell'amore che una che una logica incalcolabile è una logica che sfugge il nostro controllo jezi rimane male davanti a questo gesto di gratuità gli sembra troppo forte accettare che il suo maestro si comporti in questo modo e quando questo ospite illustre torna a casa ormai guarito nama nel siro lo insegue e mentre sta tornando a casa lo insegue e lo vede correre da lontano allora nama scende da cavallo gli va incontro dice che cosa succede dice guarda ci siamo ricordati che stanno venendo dalla montagna alcune persone alcuni ospiti ma se ci puoi dare qualche vestito qualcosa giusto per dargli da mangiare non tutta questa roba così una piccola offerta per queste c'è proprio sfuggito che stanno venendo dei bisognosi da noi naman davanti a questa richiesta ovviamente elargisce da a quest'uomo no e lui pensa di essere furbo e pensa di essere furbo torna a casa si è inguattata la roba nel frattempo l'ha presa lui e si presenta davanti al suo maestro davanti eliseo il quale lo interroga dice dove sei stato ma da nessuna parte mio signore eliseo dice guarda che io ero presente mentre tu domandavi a naman queste cose e davanti al fatto che viene svelata questa malizia cioè questo aver oltraggiato profanato la gratuità questo racconto si conclude in questo modo e la lebra cadde su giesi e lo riempì di questa malattia ecco è interessante come questa questa malizia con cui quest'uomo vive questo aver oltraggiato la gratuità produce in lui la lebra cioè produce in lui quella solitudine quell'isolamento tu pensi di essere furbo ma in realtà questa cosa ti condannerà radicalmente alla solitudine non capirai più che cosa sia l'amore che cosa può essere l'amore ora immaginate tutto quello che vi ho raccontato fino adesso no la pelle come il luogo della luce eccessiva o della lebra troppa luce non permette l'incontro la relazione troppa lebra non permette allo stesso tempo nessun incontro nessuna relazione cosa fa gesù di così strano di così eretico quasi nel vangelo e viene accusato per questo perché gesù tocca gli intoccabili tocca le persone immonde a un certo punto viene raccontato il miracolo di un lebroso che va a lui e lo prega con una preghiera struggente se tu vuoi dice questo lebroso puoi guarirmi se ti sono a cuore tu puoi guarirmi gesù tocca quest'uomo dice lo voglio ed è guarito in quel momento attenzione lo tocca non poteva essere toccato quest'uomo e gesù invece lo tocca mette in discussione il comandamento di tenersi a distanza varca un confine che nessuno e invece è in grado di poter varcare gesù trasgredisce una regola per poterla realizzare fino in fondo è bello che il vangelo ci dice questo per dirci che ci sono cose nella vita che possono essere ottenute come guarigione solo e soltanto se qualcuno forza lo schema forza la mano se io non merito che nessuno mi voglia bene perché ho fatto delle cose sbagliate è un certo punto mi accorgo che qualcuno comunque mi vuole bene io sono uscito fuori dalla legge matematica di occhio per occhio dente per dente e mi sono ritrovato davanti a qualcuno che ha trasgredito questa regola mondana e mi ha fatto fare un'esperienza di bene mi ha guarito appunto ha fatto arrivare l'amore dentro la mia vita gesù fa questo tocca la pelle di quest'uomo e quest'uomo guarisce l'esperienza della fede e l'esperienza di trovare qualcuno che fa tornare un equilibrio in questa nostra mediazione in questa nostra capacità di non sentirci soli nella nostra relazionalità gesù guarisce la pelle di quest'uomo ma gesù stesso viva vivrà su di sé sul proprio corpo sulla propria pelle un momento di luce e un momento di buio vi ricordate sul monte tabor dice non sapevano gli evangelisti non riuscivano a trovare un'immagine abbastanza efficace per raccontare quell'esperienza di luce e dicono in questo modo le sue vesti divennero candide luminose nessun lavandaio era in grado di far questo ma c'è così tanta luce che cosa fanno pietro giacomo e giovanni dormono svengono davanti a questa luce ma lì gesù si sta mostrando in tutta la sua natura divina questa è la luce ma gesù a un certo punto si mostra anche in tutto il buio del male quando è appeso sulla croce e quando tu vedi un uomo che soffre trafitto dai chiodi sfigurato dalle smorfie della morte non era una morte serena è quando noi vediamo vedevo ieri a brescia in una chiesa no queste questi crocifissi medievali con un volto molto sereno del cristo no che forse non tengono conto di di un dettaglio che è raccontato nel vangelo gesù muore gridando gridando c'è tutta la sofferenza del mondo tutta la nostra sofferenza lì tutto il buio gesù si porta addosso tutto il buio che che viene rappresentato in maniera viva sul suo corpo da queste ferite ora se noi dovessimo immaginare la risurrezione come la dovremmo immaginare come la guarigione da queste ferite la guarigione da questo buio la guarigione da la la parte sfigurativa della croce invece il risorto per mostrarsi risorto mostra le piaghe mostra questo corpo ferito che in realtà diventano la mediazione della luce quindi attenzione troppa luce fa male troppo buio fa male abbiamo bisogno di una mediazione la mediazione che trova cristo è questo ci sono delle ferite che sono stato sono state buio dentro la nostra vita ma dopo l'incontro con un amore così queste ferite diventano un passaggio di luce è proprio perché hai sofferto che a un certo punto passa la luce nella tua vita è proprio perché hai vissuto quel buio che quel buio ti trasfigura ti rende un'altra persona ad esempio ti umanizza ti toglie la scorza di del delirio di onnipotenza ti rende più umile più umano quello che fa gesù è mostrare come il corpo il suo corpo diventa il punto di contatto tra il buio e la luce sapete che cosa di cosa erano convinti nell'antico testamento ma questo perché non era soltanto una convinzione superstiziosa era era una convinzione teologica nessuno può vedere dio rimanere vivo se tu vedi dio muori invece dopo la risurrezione i discepoli possono vedere il risorto ma non muoiono e possono talmente tanto vederlo non come un fantasma non come un'allucinazione non come una suggestione collettiva e questo risorto per dire non sono una suggestione non sono un fantasma non sono una una tua proiezione mentale dammi da mangiare che avete del pesce mangiamo del pesce fatemi bere toccatemi tommaso può mettere il suo dito nel suo costato c'è un'esperienza corporale profonda fisica con il corpo del risorto quasi a dirci che non è un'esperienza di evanescenza la vita spirituale non è astrazione è qualcosa che noi sperimentiamo nel profondo della carne nel profondo della nostra concretezza non è essere fuori dal mondo ma entrare più pienamente dentro il mondo dentro l'esperienza del mondo dentro l'esperienza della vita il corpo di gesù la pelle di gesù diventa il luogo di mediazione tra il buio e la luce ora se questo è quello che ci racconta il vangelo la bibbia se qui abbiamo trovato una grande parabola della pelle no di questa parte esteriore di una superficie molto più profonda pensate in duemila anni di storia del cristianesimo dell'esperienza cristiana come tutto questo ha avuto una ricaduta ad esempio su il vissuto vero dei cristiani qui potremmo aprire tantissimi capitoli io ho voluto questa sera semplicemente segnalarvi l'esperienza dei mistici a volte nell'esperienza di alcuni mistici di alcuni personaggi che sono molto rari nella storia della chiesa come personaggi autentici guardate che di gente che pensa di essere mistica è pieno il mondo è quando ogni tanto vedo qualcuno che magari viene a parlare eccetera e dice credo che sto attraversando la notte oscura guardate che la notte oscura è un livello di vita mistica altissimo no quindi se tu stai dicendo che stai passando la notte oscura a parte ti stai dando del mistico da solo e ti sei messo a un livello altissimo poi a volte in realtà non è la notte oscura dei mistici ma dei guai che abbiamo combinato e delle cose che abbiamo o non abbiamo fatto e quindi quel buio ha delle conseguenze molto spiegabili un po come la barzelletta di quello che entra in una stanza con gli occhi chiusi e dice non vedo niente ma devi aprire gli occhi no se apri gli occhi vedi vedi la luce cioè a volte noi siamo al buio perché non facciamo il possibile tu non puoi chiedere nessun aiuto alla grazia di dio se non impari a fare il tuo possibile ad esempio se tu dici al signore vorrei convertirmi nella vita ma non ti dai una regolata tu innanzitutto ma mi dici come vanno insieme queste due cose se vai da un cardiologo e gli dici dammi una medicina che mi aiuta con il cuore perché sono cardiopatico ma continui a fumare a bere non so qualche beneficio ti può essere quella medicina se non fai il tuo possibile allora capite che noi siamo più basic tutti e dobbiamo innanzitutto recuperare una vita mistica come la vita del possibile fare il nostro possibile ma ci sono delle persone che non soltanto hanno fatto il loro possibile ma hanno vissuto un'esperienza di amore con dio così profonda da trovarsi il corpo segnato da questa esperienza pensate a francesco d'assisi ecco francesco d'assisi ad esempio è uno stigmatizzato all'estimate addosso e per lui non sono propaganda non è pubblicità è una cosa di cui si vergognava è una cosa che copriva pochissime persone sono riuscite a vedere questo sul suo corpo e così anche per arrivare ai giorni nostri perché ne abbiamo più l'immaginario perché abbiamo visto filmati eccetera forse qualcuno di noi ha incrociato anche un po l'esperienza di pio da pietrilcina che quest'uomo vive su di sé queste piaghe queste stimate e guardate non si tratta di entrare in una sorta di feticismo religioso in cui noi saltiamo la sofferenza il male il dolore questa è una perversione del cristianesimo ma una conformazione totale al cristo in cui quel risorto di cui vi ho raccontato quello che si presenta ai suoi discepoli mostrando le mani e i piedi quelle stesse ferite si imprimono su queste persone sono talmente tanto uniti a quel cristo crocifisso e risorto che si portano addosso queste queste stesse ferite ecco questa questa come devo dire questa fisicità questa pelle segnata nella vita mistica di pio da pietrilcina anche lì tanto clamore tanto tanta pubblicità attorno a tutto questo ma la santità di quest'uomo non è per i buchi alle mani capite è un'altra roba ma di cui però questa carne segnata è un'esperienza della vita mistica oppure un'altra cosa che potrebbe farci rimanere un po così dubbiosi ma in realtà mi è capitato di leggere moltissima letteratura in questo senso cioè di approfondire anche diversi studi pareri un'altra mistica morta di recente natuzza evolo le emografie la pelle a un certo punto trasuda sangue questo potrebbe anche essere spiegabile ma crea delle immagini delle scritte allora vi prego di prendere per un istante distanza da questa cosa che potrebbe anche essere macabra ma dirci che cosa che c'è un'esperienza interiore talmente forte che queste persone se la portano sul corpo sulla propria pelle oserei dire che noi non dobbiamo desiderare di arrivare a questo o di avere questo dentro la nostra vita ma di poter cogliere ciò che indicano questo tipo di esperienze e cioè che noi abbiamo bisogno di recuperare un'esperienza di vita di vita spirituale che non è la ricerca del sensazionale ma la grande riconciliazione tra il dentro e il fuori e tornare a dare a dare una concretezza a ciò che non vediamo a ciò che ha bisogno di una mediazione per emergere tornare a provare questa comunione questa comunione che suscita dentro di noi un cambiamento radicale della nostra vita e della nostra storia cambiare pelle significa lasciare che nella nostra storia personale possa ritrovarsi un equilibrio tra il buio e la luce tra un eccesso tra due eccessi che poi alla fine si incontrano tra di loro e che hanno bisogno invece di ritrovare un equilibrio e finché noi ci accontentiamo semplicemente di riflettere o di rimanere solo in un lato psicologico interiore nel senso di celebrale non abbiamo ancora colto l'essenza vera dell'anima e della vita spirituale ve lo ripeto non si tratta di avere le stimmate o le emografie ma di domandarci quanto sia concreta la nostra esperienza spirituale quanto diventa carne quanto diventa qualcosa di toccabile nella nostra storia e quanto quello che diventa concreto assomiglia alla pelle del risorto le ferite che lasciano trasparire la luce il passaggio di una luce che non acceca ma che trasfigura il buio allora in questo modo vedete capita il grande miracolo di accorgersi che in realtà ognuno di noi si porta addosso un conflitto che il conflitto tra il dentro e il fuori e avere una vita spirituale significa far emergere tutto ciò che noi reprimiamo e interiorizzare tutto quello che invece da cui ci difendiamo dalla vita e ritrovare di nuovo un punto di contatto tra il dentro e il fuori e ritrovare di nuovo questa questa armonia ecco il mio augurio è che questo festival tutte queste riflessioni che noi stiamo facendo in torino spiritualità possano aiutarci proprio in questo senso ecco a guardare con uno sguardo diverso la superficie che non è più qualcosa di superficiale ma semplicemente la parte più evidente di qualcosa di molto più profondo che tutti noi ci portiamo grazie 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 grazie